Si muovono su più fronti amministrazione comunale, consiglio e lega ambiente di Capodorlando nell'affrontare il grave problema dell'erosione della costa, che nelle ultime settimane è tornato a farsi preoccupante. Fronti che rischiano però di confondere la cittadinanza dopo la riunione svoltosi in municipio per discutere tutti i passaggi che porteranno alla redazione del progetto esecutivo per la difesa del litorale, che è stato recentemente inserito in un primo stralcio di finanziamenti dal Ministero per l'Ambiente per quasi 5 milioni. Per questo il Sindaco Franco Ingrillì ha sottolineato la necessità di attuare un intervento politico congiunto, illustrando i prossimi incontri previsti a Palermo con la Regione. La lega ambiente andrà perché vuole manifestare un'idea che condivido anch'io, cioè quella al di là del nostro progetto su Capodorlando, che si faccia uno studio complessivo di tutta la costa tirrenica, mentre nello stesso tempo si vuole tentare di poter avere una somma che non ha niente a che vedere con quella relativa al progetto, per poter fare un intervento nel periodo, prima del periodo estivo, con fondi regionali. E per questo vanno anche alcuni consiglieri comunali di minoranza? Per questo vanno alcuni consiglieri sia di minoranza, non so se ci andranno anche di maggioranza, io spero che possano arrivare ad avere un qualche cosa e perché che ben venga. Però, ribadisco, tutto ciò non ha niente a che vedere con il finanziamento del progetto della difesa della costa perché quello già è stato ottenuto ed è stato ottenuto grazie soprattutto all'amministrazione attuale che si è messa in macchina più di una volta per averlo. C'è il rischio che questi viaggi a Palermo possano invece compromettere quel finanziamento, cioè nel senso mettere in discussione quello con i pennelli che parte da Traziana Marina e finisce a San Gregorio. Terremo conto delle considerazioni di lega ambiente e chiaramente abbiamo anche discusso su questo. È ovvio che se a livello del progetto poi sarà necessario fare un pennello, diciamo, è chiaro che se c'è questa necessità che proviene dallo studio verrà fatto quello che non vogliamo nessuno e che diventi una costa piena di pennelli.